Molteplici sono le suggestioni che le opere di Balistreri suscitano nell'animo e nell'immaginazione dello spettatore. Le grandi ruote con buste situate ai bordi di un quadrato, o la grande scacchiera insanguinata che ricopre l'intero cortile interno del quattrocentesco palazzo Abbatellis di Palermo, sede della Galleria regionale della Sicilia. Con l'installazione, dal titolo emblematico Egli dei invidiosi guardano e ridono, Balistreri traccia un ponte tra la sua installazione e il trionfo della morte dell'anonimo maestro del XV secolo. Entrambe le opere sono legate infatti dalla rappresentazione di un identico destino, l'arrivo incombente, galoppante, dell'apocalisse. Al grandioso affresco Balistreri tra il 1992 e il 1994 dedicò degli interessanti studi che sicuramente avrebbero meritato maggiore notorietà ed attenzione da parte della critica. Sarà possibile visitare la mostra tutte le mattine dalle 9 alle 13, pomeriggi del martedì, mercoledì, giovedì e venerdì, dalle 14 e 30 alle 19. Io mi ero già interessato al trionfo della morte, che come tutti sapete è un grande affresco del re 400 esposto in questo palazzo. Me ne ero interessato intorno agli anni 90, i primi degli anni 90. Ho fatto un'indagine conoscitiva sia dal punto di vista iconografico che dal punto di vista della materia. Poi, diciamo, dal punto di vista iconografico io mi ritrovo in contrapunto con questa rappresentazione medievale della morte. Quindi mi è servito per un fatto solo conoscitivo, ma poi ho accentrato il mio interesse sulla trasformazione della materia come rappresentazione di un processo di morte insito in tutte le cose. Io non vorrei, diciamo, addentrarmi a parlare dei significati dell'opera per due buone ragioni. Prima di tutto perché quello che so dire, penso di saperlo dire meglio con gli strumenti dell'arte, non credo che verbalmente potrei aggiungere niente di più di quello che è insito nell'opera, nella sua interezza, nella sua completezza. La seconda ragione è che io considero ogni opera d'arte, al di là di ogni valutazione artistica, un viaggio. Come tutti i viaggi penso che ciascuno se li debba vivere, fare con le proprie valigie, le proprie lenti.